Tutte le liberalità, i contributi, tutte le declinazioni anche in termini di comunicazione, cosa che i sindaci fanno abitualmente, anche la comunicazione istituzionale, sono state totalmente azzerate. Questa rita è davvero troppo, ma quante balle dici? Ma basta, ma basta, cerca di essere un po' seria. Dire in televisione che non hai fatto spese di comunicazione, che le hai azzerate, è proprio raccontare le balle. Ho già dimostrato che hai speso più di un milione di euro attraverso le aziende partecipate, Amag, Allegas ed intorni. Con il comune hai speso più di 200.000 euro solamente nel progetto Piso in spese di comunicazione, che sono già rendicontate a tua firma, e dici che non hai speso niente, che le hai azzerate. Ma chi vuoi prendere in giro? Dai! Pensate, amici che seguite la mia pagina, che come atti che riguardano la comunicazione fatti da quando si è insidata questa amministrazione, ci sono oltre 100 determine, di cui gran parte fanno riferimento alla legge 150 del 2000, ovvero comunicazione istituzionale. Cioè continuano a fare comunicazione, a spendere soldi, hanno speso tantissimi soldi in comunicazione, e questa va in tv a dire che non è vero. Pensate che per quello che riguarda il piano della comunicazione dell'ente, che è solo una piccola parte delle spese di comunicazione, nel 2015 era stato previsto 30.000 euro, quest'anno nel 2016 è la più che raddoppiato, 70.000 euro e per il 2017 ne è già previsti 50.000, che ovviamente spenderà nei primi mesi. Praticamente stanno facendo campagna elettorale con i soldi dei cittadini, perché poi spesso le spese di comunicazione vogliono dire questo. E quindi io chiedo solamente una cosa a Rita, basta balle, prenditi la responsabilità delle cose che dici e poi ti chiedi perché sei il sindaco meno amato d'Italia. Secondo il Sole 24 ore, lei è da tre anni la sindaca meno amata d'Italia, non so se per questo... Sì, certo, è vero. Se essere il sindaco meno amato d'Italia ha voluto dire riportare trasparenza, moralità e approccio etico alla gestione della cosa pubblica, io sono orgogliosa. Questa è proprio una cara, una vera cazzata, una grande, gigantesca, strepitosa cazzata.